essere, avere Riccardo è uno studente dell'Università di Roma Riccardo è uno studente dell'Università di Roma ha vent'anni e molti amici ha vent'anni e molti amici è sempre in ritardo è sempre in ritardo Stefano e Laura sono sposati da 15 anni e hanno due figli, Cecilia e Andrea Stefano e Laura sono sposati da 15 anni e hanno due figli, Cecilia e Andrea Stefano è ingegnere e Laura è impiegata in un ufficio Stefano è ingegnere e Laura è impiegata in un ufficio Beatrice ha 12 anni e abita in una casa con un grande giardino Beatrice ha 12 anni e abita in una casa con un grande giardino ha un cane che si chiama Lucky ha un cane che si chiama Lucky Beatrice ha 12 anni e abita in una casa con un grande giardino Grazie a tutti